Cambia ancora una volta la CEV Volleyball Champions League dall'edizione 2019, a cui la Cucine, Lube e Civitanova si è già qualificata dopo il secondo posto in regular season e dopo aver disputato la finale scudetto. Ecco adesso la nuova formula per la massima competizione per club europei appena presentata dalla CEV. Scopriamo insieme le novità nei dettagli. La fase a Gironi vedrà coinvolte 18 squadre su 20 qualificate di diritto in base a un ranking nazionale formato sui risultati ottenuti da vari club nelle ultime tre edizioni della Champions League. L'Italia in cima al ranking avrà tre partecipanti già ai Gironi. Oltre alla Cucine, Lube e Civitanova accedono dunque Perugia e Modena. Le altre due a 20 diritto dopo il campionato di Superlega. Oltre all'Italia anche russa e Polonia avranno tre squadre già qualificate alla fase a Gironi. Seguono con due squadre Turchia, Germania e Belgio e con una squadra Francia, Slovenia e Grecia. Le ultime due squadre che completeranno le 20 della fase a Gironi usciranno dai tre turni preliminari in programma precedentemente che coinvolgeranno tutte le nazioni europee con ranking più basso. Non ci sarà più la Final Four, l'atto conclusivo della Champions. Sarà chiamato Gran Finale. Si disputerà in campo neutro, dunque finale secca in un grande evento di due giorni che ospiterà sia la gara decisiva maschile sia quella femminile. Per decidere poi le due finaliste dopo la fase a Gironi si disputeranno i quarti di finale e le semifinali con la formula ad eliminazione diretta con gara di andata e gara di ritorno. Si qualificheranno ai quarti di finale soltanto otto squadre, ovvero le cinque prime classificate dei cinque Gironi e le migliori tre seconde. Ancora non sono stati definiti infine i criteri e i tempi del sorteggio della fase a Gironi.